E bella a tutti ragazzi e ragazze ben ritrovati dalla vostra Croatomist Oggi ragazzi siamo qui con un video di Fortnite in no build E vi farò ragazzi vedere la potenza del Prime Shotgun Che a parer mio è lo shotgun più forte che abbiano messo fino ad oggi su Fortnite Perché fa veramente un danno che secondo me non ha assolutamente senso Fatemi sapere questo nei commenti se anche voi la pensate come me Quindi scrivete perché sono curiosa di sapere anche la vostra opinione riguardo il Prime Shotgun Quindi sì ragazzi oggi andate a vedere dei danni veramente atomici E delle clacciate veramente pazzesche perché vi giuro mi sono trovata in delle situazioni veramente critiche Ma comunque sono riuscita a uscirne fuori Quindi ragazzoli mi raccomando lasciate un bel like a questo video Iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti E vi ricordo che mi trovate in live sul mio canale Viola tutti i giorni dalle ore 17 in poi Quindi raga vi aspetto anche soltanto per un saluto Ma ora non perdiamoci in chiacchiere, godetvi questo gameplay e vi auguro una buona visione Allora ho una pistola, anzi due pistole, non ho paura di usarle Ho traccato one shot, no ho caduto uno No, sono un 210 per me, eh, occhio Quanti sono? Non so cosa aveva No vabbè Ma veramente? Coddiaz Questa cosa aveva Aveva full impulso A mermitico E leva viola Dai po' per favore Muovermi la macchina Porca Ho visto fake Scoreggia 48, 32, 32 Di nuovo Crackato One shot 30, 1 30 30 ancora Perché stai ruoteando Con quella skin bianca? Basta Te l'ho detto di non ruoteare C'è Non ci aveva visto Ecco Ci hanno visto Chi vuole le splash Te viene in 43 secondi 1 2 Le vuoi o no? Sì Va bene Non la voglio No Non la voglio più fare 110 Doppia 110 di nuovo Allora Ma mangiare solo di cecchino Dillo Ma perché sono morto subito? Ma cecchino trova qualcuno Dove è 3 1110 ragazzi Ci sta Sirei Molito Deve stare qua in no build E non so Sia Vabbè Sì Proprio un suicidio Dici Sei morta No Devo andarmene Non posso C'è qua da sinistra Vabbè T'ha preso la mente I'm cool Sontri I'm cool Sontri What's up? iscriviti Sì Vediamo se scende Godo Godo tantissimo Così impara a fare lo spavaldo Anzi gli spavaldi Per forza non bisogna non restare Ora che mi seguino tutto il tempo Sì sì ce l'ho ce l'ho Ma era un edge al treno Buttati dentro il regalo Tanto è l'impulso Strai Quinto La per l'amore Cosa? Io Troverei il rest pazzo selvaggio Tutto bene per il momento Beh raga direi che l'escape ci stava C'è il cecchino Easy Easy Madonna Ok sono affidando Vai 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 Ah no Vola 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 quelli con noccato Prendo un cecchino Prendo un cecchino E gioco solo di nosco Vai demone Anche questa ce la vinciamo Easy win proprio Loro hanno un knock L'hanno eliminato Quindi loro sono 2v1 Vai Hanno fatto un'altra eliminazione Ah sono contro 1 Allora hai fatto 100 100 No sono 2 Scusami Sono 2 Oh dio Vai loot Vai loot Ho fatto 100 Comunque a 1 Era un assassino Sono due assassine Artiche in realtà 110 Sono su questa montagna Bravissima Vado Easy for le boss Capisci Pulita Pulito il timing Così 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 nel chilling Bene ragazzi Eccoci qua arrivati Alla fine di questo video Io spero che vi sia piaciuto Ma se siete arrivati Fino a questo punto del video Deduo che vi sia effettivamente piaciuto Anche perché come avete visto Ho fatto dei danni Delle kill veramente pazzesche Quindi solo per questo Lasciate un bel pollicione in su Già la sua vita ragazzi Noi ovviamente ci ribecchiamo In un prossimo video Dalla vostra Crotermist È tutto Bella a tutti ragazzi